Provercelli, 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 Provercelli In questi 4-5 giorni e anche nella prossima settimana cercherò di recuperare un po' il tempo perduto Per mettere la mia disposizione del mister al più presto Arriva a Vercelli un Luca Castiglia sicuramente motivatissimo L'anno scorso anche tu nel gruppo protagonista della cavalcata, della scalata in Serie A con la maglia azzurra dell'Empoli A Vercelli una Serie B ritrovata dopo solo un anno e quindi un campionato da vivere intensamente Beh certo, l'anno scorso ho avuto la fortuna di essere in questo gruppo che ha vinto il campionato Sicuramente non sono stato uno dei protagonisti Non ho giocato come tanti altri, ho giocato un po' di meno Però sono pronto infatti qua a riscattarmi e a giocare il più possibile Come il tuo compagno Liviero, arrivate in prestito dalla Juventus Tu hai già un curriculum di un certo tipo perché non sei un ragazzino come altri 93-94 che sono arrivati nei giorni scorsi Una tua presentazione rapidissima anche se naturalmente tutti conosciamo le tue caratteristiche Sono un paio di anni che ormai gioco da mezzala, mezzala sinistra A volte sono stato anche adattato a destra, non ci sono grossi problemi Sono un giocatore che ama più che altro inserirsi E magari fare qualche gol, vedremo un po' quest'anno come andrà Noi, 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 noi Grazie.